Ora siamo alla politica e rimaniamo a Trani. Continua il nostro giro di interviste ai capigruppo in consiglio comunale. Oggi è la volta di Aldo Procacci, capogruppo di Trani a Capo. Sarà Aldo Procacci il capogruppo di Trani a Capo. Con quali obiettivi? Il nostro obiettivo è quello di rispondere al mandato dei nostri elettori e quindi di esercitare una funzione di controllo ma di collaborazione sicuramente con l'amministrazione se tutti i presupposti indicati nelle linee programmatiche del sindaco effettivamente saranno realizzate. Quindi noi riteniamo che effettivamente saremo portati verso un dialogo ma al momento opportuno quando ci saranno i presupposti per essere una dura opposizione faremo una dura opposizione. Una valutazione delle linee programmatiche del sindaco di Trani. Ovviamente voi avevate un altro programma quindi non può che essere critico ma ci sono degli aspetti che vi lasciano ben sperare? Beh diciamo che in genere le linee programmatiche sono tutte belle da leggere. Il sindaco dice che sicuramente non è un libro dei sogni ma questo lo verificheremo col tempo. Certo diciamo noi avevamo delle priorità nel nostro programma ed erano i conti quindi mettere in ordine i conti e l'ambiente e ci lascia un po' perplessi il fatto che il sindaco ancora oggi nonostante lui in campagna elettorale aveva detto che dal primo giorno poteva indicare i suoi assessori non abbia ancora espresso un assessore all'ambiente che è una grossa priorità per questa città visti i disastri creati soprattutto riguardo la discarica, l'AMIU. Per quanto riguarda i conti ecco noi avremmo sperato un diverso modo di agire. Noi avremmo revocato la delibera del commissario perché riteniamo che un'amministrazione che si propone per la prima volta ad amministrare questa città doveva prendersi questa responsabilità revocare il rendiconto 2014 e quindi provvedere a porre chiarezza già da lì perché a questo punto ci chiediamo se non ci fosse stata la diffida della Corte dei Conti cosa avrebbe fatto questa amministrazione sarebbe andata avanti nella stessa maniera oppure avrebbe fatto quello che dice che ha fatto quindi il riaccertamento dei residui e quindi noi ci chiediamo questo, questo è quello che soprattutto nel programma del sindaco ci troviamo di diverso rispetto a quello che avremmo fatto noi.